Il PD ha chiesto le dimissioni di Corsini, lei che cosa dice? Si dovrebbe dimettere? Io mi limito a segnare la differenza, il Partito Democratico si è già espresso oggi su questo, a segnare la differenza di approccio. Noi siamo qui con più di 800 persone che si sono iscritte a sei tavoli dove stanno portando contributi e idee e dove li stiamo ascoltando per prendere spunto su come costruire un progetto insieme per il futuro dell'Unione Europea. Su altri palchi mi sembra che si susseguano figure che sono lì per accreditarsi con chi comanda e per mostrarsi sempre diciamo ubbidienti alle linee di chi comanda, quindi è molto diverso.